Sono soddisfatto della prestazione, soddisfatto di quello che abbiamo messo in campo, soprattutto nella prima parte, poi via via, probabilmente abbiamo perso quell'aggressività, ma era abbastanza prevedibile, perché è un momento in cui dobbiamo crescere come condizioni, lo sappiamo, noi come se fossimo in ritiro, onestamente, per cui stiamo facendo, invece che le amichevoli del precampionato, lo stiamo facendo in campionato. E bene o male abbiamo perso un po' di aggressività, però è stata una partita positiva, una partita dove siamo stati aggressivi sempre, dove non abbiamo mai rinunciato, anche nel finale abbiamo avuto due occasioni, una con Piazza, che se probabilmente tira, ci sono buone possibilità di fare gol, per cui è stato un continuo ribaltamento di fronte, non abbiamo mai mollato un secondo, Io credo che questo, in un momento così, sia un aspetto da sottolineare, perché i ragazzi escono stremati tutte le volte dal campo e sappiamo che possiamo solo migliorare, proprio perché nel migliorare la condizione, poi riusciremo a migliorare anche tante altre cose. Ma volevo una partita propositiva, non volevo una partita passiva, volevo una partita dove ci fosse aggressività, e ci siamo stati sia propositivi, con una grande personalità, con coraggio, e in più siamo stati aggressivi. Abbiamo migliorato tutte queste cose, che secondo me sono fondamentali per fare bene, e sappiamo che solo stiamo facendo dei passi avanti, che sono i primi, e sappiamo che fare questo in questo momento non è facile, anzi, per questo, in questo momento, devo fare veramente i complimenti per quello che stanno facendo. Ma perché sapevo che per aumentare l'aggressività, per aumentare anche, portare maggiori giocatori nella fase di possesso alla conclusione, dovevo aiutare la squadra in qualche modo, e ho scelto questo perché ero convinto che questo li poteva aiutare. Ed è stato così, perché credo che in tutto questo la squadra si sia trovata nelle condizioni ideali per poter fare questo tipo di calcio, e l'ha fatto dall'inizio alla fine, ripeto, magari alla fine calando un po', ma come era normale poterci accadere? Allora, è stata una partita bella, veloce, bella per modo di dire, perché quando non c'è il pubblico non è bello. Non è bello, è una partita così, vuoi mettere il pathos del pubblico, l'incitamento del pubblico, le parolacce del pubblico avversario, insomma, sono tutte cose che ti caricano, no? Per cui giocare così è proprio, è brutto, dai, è triste, è brutto, non è calcio, però dobbiamo farlo e lo facciamo, e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Io credo che nel primo tempo il pareggio è la cosa giusta, perché noi abbiamo fatto gol, loro hanno fatto gol, c'è stata una sostanziale non prevalenza né dell'uno né dell'altro. Nel secondo tempo siamo stati più pericolosi noi, però sai, in queste partite c'è sempre, tu sei pericoloso, non riesci a fare gol, e poi ti fanno gol loro in contropiede. Per cui quando non si riesce a vincere va bene, va bene non perdere. Keita e Adrian Silva, e ci metto anche Antonio Candreva, sono tre giocatori importantissimi per noi, ma Antonio ha finito il campionato l'anno scorso, agosto, e poi si è allenato, tra virgolette, sempre da parte, perché nell'Inter in pratica faceva soltanto le corse, non ha mai fatto una partita, non ha mai fatto nulla di tutto ciò. Per cui è un conto correre così, è un conto invece anche in allenamento fare le partite e fare tutto il resto. Adrian Silva e Keita è da febbraio che non si muovono, per cui è ancora più difficile per loro portarli ad una condizione accettabile. Si stanno impegnando tantissimo in allenamento, io quando posso li metto dentro, ma certo non posso metterli dall'inizio, perché non mi tengono, credo che adesso come adesso, non mi tengano un tempo. Per cui nell'ultima mezz'ora invece, magari quando la squadra avversaria è un po' più stanca, loro possono fare la differenza, perché la qualità, l'intelligenza tattica è altissima. Grazie.